Nel provvedimento il GIP contesta anche i reati di frode fiscale in debita, compensazione d'imposta con crediti inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso, versamento IVA, falso in atto pubblico, intestazione, fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Per quattro degli indagati disposta la detenzione in carcere, per due gli arresti domiciliari, per tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il GIP ha anche disposto il sequestro beni per 28,5 milioni di euro ritenuto il danno complessivo subito dall'erario. Al centro dell'indagine dell'operazione Petrolio Fantasma della Guardia di Finanza di Catania, impresse del settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Coinvolte nell'inchiesta sono nel territorio etneo le SRL Union, la Hard Fuel, la Petrocell, la Falsa Perla Gioacchino. Nel Palermitano la Carol Service, a Trapani, la Sicil Oil e a Siracusa la Last Trading, personaggio indicato dalla procura come figura centrale di un collaudato sistema di evasione delle accise dell'IVA. Sarebbe Sergio Leonardi che contesta l'accusa con altri soggetti a vario titolo concorrenti avrebbe realizzato dal 2018 al 2021 condotte di frode fiscale commercializzando ingenti quantitativi di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione senza versare le relative imposte. Per commettere i reati e la tesi della procura di Catania sarebbero state utilizzate società cartiere prodotti petroliferi destinati agli esportatori abituali ma in realtà immessi in consumo nel territorio nazionale oltre a crediti di imposta inesistenti e uso commerciale per aziende di trasporto compiacenti di gasolio agricolo sottoposto a tassazione agevolata. Una prima tranche delle indagini era sfociata in otto arresti nel sequestro di oltre 80 mila litri di prodotti energetici di illecita provenienza e di sette autocisterne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.